Un buongiorno agli amici di Anto.it, un buongiorno e un bentornato all'amico Massimiliano Zazzetta, responsabile tecnico del settore giovanile di Samba. A parte che c'è la presentazione, come stai vestito, non c'è. Come i vecchi tempi. Esatto. Non è casuale questa visita, anche perché aspettavamo il presidente Guido Barra, però Guido Barra per la sua attività operato di impegni. Quindi il direttore Fanesi, l'amico, è in giro per reperire alberghi, anche perché stiamo per presentare il secondo torneo giovanile Riviera delle Palme, che già lo scorso anno poi noi nel nostro piccolo seguimmo per quanto riguarda le finali al Cerrocchi di Portodalcio. Massimiliano, prima di andare in onda mi dicevi che quest'anno c'è stata un'adesione importante di molte società professionistiche. Sì, intanto buongiorno a tutti. C'è una cosa da dire. Prima di tutto, che questo torneo l'anno scorso l'ha organizzato una società esterna. Quest'anno anche questo torneo torna nelle mani dei Samba Nettesi. Viene organizzato l'associazione Noi Samba, insieme a tutti i sponsor più o meno imprenditori locali che hanno fornito il loro contributo. Proprio per questo siamo riusciti ad invitare società professionistiche che, dobbiamo dirlo, non hanno dovuto pagare niente praticamente. Ecco, ho visto che c'è la conferma della Juve, come lo scorso anno, poi nel Gironia c'è la Samba, Martinsicuro e Teramo, nel Gironia B, Atalanta, Pescara, Maceratese e Giulianova. Dicevo molto qui del territorio ma con molto professionismo in campo. Sì, abbiamo ridotto il numero delle squadre da 12 a 8, quindi facendo due gironi, cercando però rispetto allo scorso anno di favorire la qualità sia dei giovani che si possono vedere in campo e sia anche della qualità dei gironi stessi. La Samba Nettese è capitata con la Juventus e il Teramo e il Martinsicuro. Nell'altro girone Atalanta, Pescara, Maceratese, come hai detto tu, e Giulianova. Credo che si possa vedere a livello locale e nazionale un po' il meglio del 2002. Certo, certo, certo. Ascolta, ho visto che ci sono interessate, oltre al nostro Stato di Rive delle Palme, anche altre strutture sportive. Sì, dobbiamo ringraziare innanzitutto ancora una volta il Martinsicuro Calcio, che si è prestato, senza pretendere nulla, dobbiamo dirlo, a concederci la sua struttura per fare questo torneo. È una struttura che si presta perché ha una grossa tribuna, può accogliere non solo ottimamente i ragazzi con diversi spoiatoi, ma anche le famiglie che credo giungeranno numerose. Anche perché essendo ragazzi del 2002 saranno tutti accompagnati alle famiglie, quindi diciamo che ci sarà un grosso movimento in questi giorni che, ripetiamo, dal 4 al 6 gennaio prossimo. Beh, sicuramente c'è un motivo per cui questo torneo viene fatto con il 2002. Prima di tutto perché la fascia d'età interessante del settore giovanile è evidentemente quella dei 13-14 anni. E la seconda è perché proprio appunto per questa giovanetà riusciamo a far muovere famiglie anche da fuori regione per promuovere naturalmente il nostro turismo a San Mello. Il nostro territorio. Mi stavi dicendo prima di andare in onda che c'è stato anche, insomma, diciamo così, l'avallo del Presidentissimo Fedeli che sappiamo che si sta inserendo sempre più a San Mello del Trotto e sappiamo che con tanti obiettivi importanti futuri. Beh, sicuramente non devo essere io a fare i complimenti al Presidente Fedeli, ma sicuramente un merito grande gli va riconosciuto che si è subito prestato per darci la disponibilità in Riviera, non solo per la gara Juventus-San Mettese, ma anche per tutte le altre. Noi giustamente abbiamo declinato perché crediamo ancora che la prima scuola della Samba abbia un obiettivo grosso e bello e importante da raggiungere. Lo ringraziamo, cercheremo di rovinarlo il meno possibile, non la Juventus, penso noi. Però ecco, gli va un grande merito, un grande applauso, è il grande merito di essersi subito inserito anche nell'interesse del settore giovanile. Ecco Massimiliano, c'è qualche presenza importante? Perché ricordo lo scorso anno c'erano anche diversi osservatori da fuori Italia, mi ricordo, al Ciarrocchi. Sì, ecco, il Ciarrocchi poteva essere un'altra struttura che è adeguata al torneo. Sicuramente nell'individuare le strutture, chiaro, una rosa di possibilità perché dove non è stato possibile non si è chiesto. Abbiamo cercato strutture apposta che potessero ospitare osservatori, quindi con una tribuna, con degli spazi adibiti per ospitare. Certo, perché in questo periodo soprattutto e per questa fascia d'età sicuramente verranno diversi osservatori. Ecco, allora, visto che io ho il calendario, se vuoi un attimino fare un brevissimo riepilogo di come si svolgeranno? Beh, sicuramente, innanzitutto, oltre a Martinsicuro avremo come location Grotta Mare, a cui ringraziamo anche loro. Nella prima giornata, giustamente, le gare saranno svolte in due orari, 9.30 e 11.00, i tempi di gioco saranno di 25 a tempo, quindi, diciamo, nell'arco di un'ora dovrebbe svolgersi le gare. Questo orario riguarda il mattino, mentre il pomeriggio, dalle 15 alle 18, giocheranno tutte le altre. Nel sito NoiSamb presto sarà pubblicato il calendario, molto probabilmente. Tutto questo torneo si svolge in tre giorni, dal 4 al 6. Come lo scorso anno. Sicuramente, per poter vedere le partite, bisognerà informarsi, perché sono a rotazione rapida, quindi, ecco, il giorno eliminatorio, il 4 e il 5, tra mattina, pomeriggio e mattina, si svolgerà tutto. Poi mi stavi dicendo che, sicuramente, il giorno prima, il giorno di prima, ci sarà una conferenza stampa per fare un po' anche sui giornali, però noi nel nostro sito cerchiamo di dare una mano, lasciando questa informazione, Massimiliano, ribadendo che questo è il secondo torneo giovanile che lo scorso anno fu un po' così da promozione per vedere come andava. E, vista la presenza e la decisione di squadre pressionistiche, è qualcosa sul quale la Samb crede anche in futuro. Sì, abbiamo, come ho detto prima, vedendo, diciamo, l'interesse che ha suscitato lo scorso anno, quest'anno abbiamo cercato di fare due cose nuove. La prima è un'organizzazione interna, come ho detto, quindi ringraziando ancora, qualora ce ne sia bisogno, l'associazione Noi Samb e il suo direttivo, che sosterrà insieme a sponsor, amici, come sempre, insomma, come sempre avviene questo torneo. E la seconda è di farlo invitando il meglio che si possa invitare, locale e a livello nazionale. E, ribadendo questo concetto, stavamo dicendo che il settore giovanile 2002, quindi ragazzi di 13-14 anni, ecco, una cosa importante per chi ci ascolta, gli ingressi sono gratuiti o sono a pagamento? Allora, il discorso degli ingressi sarà regolamentato, penso che ci sarà un'informativa prima del torneo. Non hanno ancora deciso come gestire il discorso degli ingressi, credo che ci sia un tagliando valido per tutte le gare. C'è uno a questo il tagliando? Oppure partita per partita, ecco, credo che ci sia una scelta, non credo siano prezzi popolari, quindi non ci sarà questo problema, ma, però diciamo che dobbiamo guardare anche il sostentamento di questo biglietto per tutte le gare, o un biglietto alla volta, più come un aiuto alla riuscita del torneo che per uno scopo di lucro che non esiste, insomma, a questo livello. Forse la cosa importante da dire è che la gara inaugurale sarà domenica 4 gennaio alle ore 11? Sì, allora, le prime gare inaugurali sarebbero state Atalanta-Giulianova-Juventus-Samb in contemporanea, una Riviera e una Martinsicuro. È chiaro che vogliamo dare la possibilità a tutte le famiglie di San Benedetto di poter vedere la Samb contro la Juventus e di farlo nello stadio più bello che abbiamo. Siamo, quindi abbiamo spostato l'orario alle 11 invece del 9 e mezza, quindi la partita inaugurale del torneo sarà Atalanta-Giulianova a Martinsicuro al 9 e mezza, ma l'inaugurale della Samb sarà a Riviera alle ore 11. Domenica 4, mentre le finali ci saranno il 6 di gennaio, che è l'Epifania, con le finali che si svolgeranno a Martinsicuro dalle 9 e 30 fino alle 11 e mezza. Terzo e quarto posto, prima e secondo posto. Sì, naturalmente speriamo di rientrare nelle prime quattro, però abbiamo combinato i gironi per arrivarci. L'importante di seguire il gruppo per te è partecipare. È partecipare, sicuramente a questa età è partecipare e se è possibile mettere in mostra anche dei ragazzi nostri del territorio che in questo momento potrebbero essere sotto l'occhio di queste società professionistiche. Massimiliano, in bocca al lupo per il torneo, buon lavoro e sperando di rivederci anche per questa occasione. Grazie Greppi e lupo. Grazie a te.